Il numero della Sampdoria La Sampdoria schiara con il numero 1 Dello, con il numero 14 Con il numero 5 Sessi, con il numero 6 In Italia, con il numero 10 Il gruppo, con il numero 11 Sabini Con il numero 15 Colle, con il numero 24 Berzinski, con il numero 25 Ferrari, il numero 29 Nuro, il numero 87 Candre A disposizione dell'allenatore Gianpaolo Il numero 30 Davaglia, il numero 33 Falcone, il numero 3 Augello Il numero 13 Conti, il numero 14 Cidera, il numero 16 Axelzen Il numero 21 Giovinco, il numero 22 Yoshida, il numero 26 Magliani Il numero 27 Quagliarella Il numero 70 Trimboli, il numero 88 Ricone, arbitro delle partite Signor Rosato, assistente Costanto Passeri, quarto uomo Campone Alvar Avanti, assistente Alvar Cardone E adesso, tutto in penso Fuori la voce per i nostri Leoni Con il numero 21 Con il numero 21 Michi Naimpa Con il numero 10 Mattia Maramu Con il numero 14 Tomas Euri Con il numero 16 Luca Con il numero 20 Luis Con il numero 22 Tairon Ebuei Con il numero 31 Mattia Caldaro Con il numero 32 Capitano Pietro Ciaccaroni Con il numero 44 Con il numero 44 Itan Ampadu Con il numero 55 Ricciano Ops E con il numero 77 David Ok Reche Allenatore Paolo Zanetti A disposizione con il numero 34 Bertinato Con il numero 5 Vacca Con il numero 8 Tesman Con il numero 9 Insame Con il numero 11 Sigussone Con il numero 19 Uman Con il numero 23 Kinn Con il numero 27 Busio Con il numero 30 Svoboda Con il numero 33 Cernigoi Con il numero 37 Matteo E con il numero 48 Bertinato Sempre E comunque Forza Neoni Si E con il numero Grazie.